Il buongiorno di Oppo D'Annunziata sarà dato appunto dal forno di Nino Daniele, però insieme a questi due grand'amici, cugini tra l'altro parente, perché anche se sono emigrate, però il cuore di Giulia è sempre qui a Tresilico, e anche il marito, anche se è pugliese, però il suo cuore ormai è tresilicese, ovvenese. Quindi buongiorno a tutti da parte di Oppo D'Annunziata, a tutti voi che ci seguite, anche perché Oppo D'Annunziata appunto è nata per servire voi tutti emigrati, quindi dare servizio, rendervi vicino alla nostra città quotidianamente con tutti gli eventi, sia non solo religiosi, ma anche civili, artigianali, di tutto e di più. Quindi buongiorno a tutti, Oppo D'Annunziata e insieme a questi due grand'amici. Buongiorno, ciao, ciao, ciao.